Il cinema italiano si arricchisce di un altro autentico capolavoro, la strada. Raramente lo schermo ha raccontato con tanta intensità e tanta efficacia una storia più nuova e più coraggiosa. La storia di Gelsomina e Zampanò, una storia che ricorderete sempre con profonda commozione. Ma voi perché mi tenete con voi? Io non son bella, non so far da mangiare, non so far niente. Ma che diavolo vuoi? No. Dai a dormire, vai? Adesso vi sposerei anche. Tanto se dobbiamo stare sempre insieme. La strada è il loro mondo, con le sue avventure straordinarie, i suoi incontri favolosi o patetici, i suoi drammi sconosciuti. Zampanò, Zampanò, correte, correte! Contrade inospitali, campagne assolate, piccoli paesi sperduti tra i monti, il viaggio di Gelsomina e Zampanò è sempre due creature profondamente diverse e destinate a percorrere insieme la stessa strada. Buonasera. Cosa fai? Niente. E allora si è di qui. Voi va bene? Vieni qui. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. E la strada, in questo mirabile film che narra la storia di un'anima pura e gentile che il destino unisce a un uomo violento, in queste pagine di poesia che mettono a vivo tutta l'angoscia della solitudine, sentirete vibrare i vostri più intimi sentimenti. Ehi, state a tempi, sai il cortello? Ehi, state a tempi, sai il cortello? Ehi, state a tempi, sai il cortello?